Hola, sono qui per parlarvi di una cosa molto figa. Non so se avete mai sentito parlare del progetto Open House. È un progetto nato a Londra, adesso non so esattamente in quale anno, che va avanti già da diversi anni e che è approdato a Roma qualche anno dopo. L'idea è quella di aprire per un weekend l'anno, a chiunque abbia voglia di esplorare, più di 200, insomma centinaia di siti, edifici, palazzi, abitazioni private che siano rilevanti dal punto di vista architettonico. Quindi è una cosa fighissima, a Roma apriranno palazzi bellissimi, ville private progettate da architetti super famosi, palazzi storici, chiese che abitualmente non sono visitabili. E la cosa molto interessante che ci riguarda è che quest'anno hanno deciso di estendere l'invito anche a noi di Together. Quindi le due case di Together saranno due delle case visitabili durante il weekend di Open House Roma, che ci sarà il 9 e il 10 maggio di quest'anno. Sapete tutti che le nostre case sono visitabili anche regolarmente, non c'è bisogno di un momento del genere per venire a trovarci, però ci piace e ci lusinga molto il fatto di poter aderire e partecipare a un progetto così importante e così figo. Anzi, è talmente figo che a momenti mi dispiace di farne parte perché vorrei essere uno di quelli che va in giro a vedersi le altre cose che ci sono in giro per Roma, che sono fantastiche. Comunque, in occasione di questo evento, in particolare domenica 10 maggio, quindi per il secondo giorno di tour guidati di persone che verranno a vedere le case di Together, abbiamo pensato di organizzare per la prima volta una delle cose che secondo noi meglio rappresenta lo spirito di questo posto e soprattutto ci aiuterebbe meglio a descrivere davvero quello che vogliamo fare qui dentro, ossia, l'abbiamo sempre detto, lasciare che le persone si ispirino a vicenda. Abbiamo indetto per la prima volta l'Inspiration Day, un giorno, una giornata in cui chiunque abbia voglia potrà salire sul nostro palco, ossia questa stanza, e di fronte a un pubblico di interessati raccontare delle storie che possano essere di ispirazione, storie di vita, storie di idee, storie di progetti, storie di qualsiasi genere che possano lasciare qualcosa a chi sta ascoltando in quel momento. Ci piacerebbe che anche chi non potrà essere a Roma potrà comunque partecipare all'evento e quindi stiamo lavorando per permettere una diretta streaming da qualche parte, poi tutti gli interventi delle persone che parteciperanno saranno filmati e in seguito distribuiti su internet attraverso la pagina Facebook o magari questo canale o qualcos'altro, vedremo. Comunque, questo video serviva per invitare chiunque di voi avesse la possibilità di essere a Roma per la domenica del 10 maggio e avesse una storia figa da raccontare. Quindi se siete una di quelle persone che hanno qualcosa di inspiring da poter raccontare a qualcuno, contattateci, ci piacerebbe che anche voi poteste raccontare la vostra storia nell'Inspiration Day, il primo Inspiration Day di Together. Quindi fatecelo sapere, alcune persone saranno invitate direttamente da noi, persone fighe che conosciamo, persone che pensiamo abbiano davvero qualcosa da raccontare e a seguito di questi primi interventi il palco sarà lasciato a chiunque avrà voglia di raccontare la propria storia. Quindi contattateci se volete essere una di quelle persone o semplicemente venite a trovarci e seguiteci su Facebook e sul sito per sapere come partecipare da pubblico magari a quell'evento. Ci sentiamo presto! Ciao!